Terminata l'installazione della struttura metallica del ponte per giugno 2016, i lavori dovrebbero essere al completo per poi procedere ai collaudi necessari all'apertura dell'asse viario e al suo utilizzo. Un ponte che il sindaco De Caro intende dedicare alla città metropolitana di Bari poiché è una struttura che rappresenta il passaggio e l'unione tra due punti. Un'opera considerata grandiosa e il simbolo del passaggio istituzionale della città di Bari a città metropolitana e quindi rappresenta plasticamente l'unione tra 41 comuni dell'area metropolitana barese nella visione del futuro. Le operazioni di montaggio delle quattro grandi travi da 45 metri ciascuna che completano la struttura metallica del ponte sull'asse nord-sud sono cominciate venerdì scorso. Il ponte che collegherà via Tatarella con via Nazareans nella città di Bari è uno dei pochi ponti strallati a pila sghemba del mondo ed è il più lungo del Mezzogiorno d'Italia in ambito urbano. La struttura è sospesa a 10 metri d'altezza ed è lunga a 626 metri. La sezione stradale sarà larga a 25 metri e mezzo con ulteriori 2 metri e 50 riservati alla pista ciclopedonale. Al centro sarà posizionato uno strallo di 225 metri dove convergeranno i cavi in acciaio che terranno sospeso il ponte. Il pilone centrale, alto 78 metri, rappresenta l'elemento fondamentale della struttura nonché quello più spettacolare. Per l'opera sono stati stanziati 32 milioni di euro derivanti da fondi Cipe e della regione Puglia. Per l'opera sono stati stanziati 32 milioni di euro